Prendendo spunto dal dibattito sia pubblico che politico sul digestore anaerobico, il Movimento 5 Stelle di Fano parte lancia in resta sulla politica gestionale del comparto rifiuti urbani gestito da Aset su mandato di Seri e sulla gestione dei conferimenti alla discarica di Monteschiantello. Datti alla mano avuti non con poca fatica dalla partecipata del Comune, Luciano Benini di Benecomune fa le pulci ad Aset e amministrazione con il risultato che questa politica voluta da Seri sin dal suo primo insediamento nel 2014, dice Benini, porterà la discarica di Monteschiantello ad esaurire la sua vita fra soli sette anni. Colpevole di questo fine vita prossimo l'arrivo anche da fuori comune di altri rifiuti urbani, passando dalle 20.000 tonnellate annue fisiologiche alle 53.000 volute da Seri solo per far cassa. Proponiamo di cambiare politica, da una parte di applicare il metodo della raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale che dove è stata applicata in tutta Italia e nei comuni in cui è stata applicata consente livelli di raccolta differenziata molto maggiori, una qualità migliore è quindi la possibilità di vendere il differenziato a costi molto maggiori e costi complessivi per l'Aset e per i cittadini di Fano molto minori. D'altra parte chiediamo che si smetta di raccogliere, di accettare rifiuti da fuori provincia e da fuori regione perché questo sta andando a riempire la nostra discarica creando appunto dei problemi che la prossima giunta si troverà in maniera molto pesante ad affrontare. Questa politica sbagliata è dimostrata anche da un altro dato presentato da Bene Comune e cioè che la raccolta differenziata a Fano con Seri è ferma al 70% e con un prodotto di riciclo a basso ricavo. Un'altra realtà quindi simile a Fano, Monte Belluna, ma gestita da un'altra società, la Contarina SPA, che effettua la differenziata porta a porta spinta, ci mostra un'altra faccia della medaglia, ovvero sia che questa società vende la carta per il riciclo a 93 euro a tonnellata, mentre Aset solo a 70 euro a tonnellata. Pertanto in Consiglio Comunale 5 Stelle e Bene Comune porteranno una mozione per scongiurare la chiusura di Monte Schiantello fra sette anni. Ci auguriamo che questa amministrazione utilizzi buonsenso e lungimiranza e quindi ci venga incontro, venga incontro alle esigenze della nostra città perché questa è un'emergenza che è dietro le porte e non possiamo fare finta di non vederla e venga a distanza di tre mesi dalla speriamo accettazione di queste proposte a parlarne in Consiglio Comunale per dire che cosa è stato fatto.